Buongiorno ragazzi di Prima, ci vediamo con la nostra seconda video lezione di geografia. Mi sono munita di microfono, quindi spero che rispetto all'audio di ieri questo si senta in maniera più chiara. In ogni caso voi potete utilizzare delle casse. Ricapitolo velocemente quanto detto ieri e arriverò a spiegare fino a pagina 129 così come vi ho fatto già segnare nel diario. Vi ho detto infatti che per la prossima settimana dovete studiare, fare l'esercizio di pagina 123 e studiare da 124 a 129. Bene ragazzi miei abbiamo iniziato lo studio della geografia umana che è quella geografia che studia incentrata sul rapporto, sulla relazione dell'essere umano con il territorio e si avvale di varie discipline come la sociologia, la statistica, l'economia e si avvale dell'ausilio anche della demografia. La demografia è quella scienza che studia dal punto di vista quantitativo la popolazione di un territorio. Non facciamoci trarre in inganno dall'etimologia della parola demografia perché viene dal greco demos vuol dire popolo, grafia, descrizione. Ma la demografia non si occupa di un popolo ma della popolazione che c'è in un territorio in un preciso momento storico. Ho ribadito, ci siamo ridetti la differenza fra popolo e popolazione e vi ho fatto il seguente esempio. Se mi reco a vivere per x motivi in Francia farò parte della popolazione francese ma non del popolo francese perché rimango italiana. Infatti l'essere parte di un popolo implica avere una certa lingua, un certo sostrato culturale, quindi usi, costumi dal punto di vista religioso eccetera eccetera. Poi abbiamo detto anche che là abbiamo iniziato a vedere gli indicatori principali della demografia. Per indicatori in genere si intendono quei dati fondamentali alla comprensione, allo studio di un fenomeno. Gli indicatori fondamentali della demografia sono il tasso di natalità in primis. Che cos'è il tasso di natalità? Materialmente quanti bambini nascono in un anno ogni mille abitanti? Questo è il tasso di natalità. Di conseguenza per tasso di mortalità intendiamo quante persone muoiono ogni anno. Di solito si vede in genere, la definizione è più generica, in un determinato periodo dovrebbe essere quante persone muoiono in un determinato periodo in un territorio. Però di solito il calcolo è su base annuale spesso. Ora la differenza tra il numero di nati e il numero di morti abbiamo detto che si chiama saldo naturale e nel caso in cui ci siano più nascite che morti parleremo di incremento demografico. Nel caso in cui invece i decessi, le morti, siano di più parleremo di decremento demografico. Sto quindi ricapitolando ragazzi velocemente, come capite, tutto quello che ieri ho spiegato in maniera più approfondita. Poi abbiamo parlato di densità demografica, altro indicatore importante della demografia e si calcola, materialmente si calcola in questo modo, numero di abitanti fratto, quindi diviso chilometri quadrati. Quindi io calcolo il numero di abitanti di una regione, di uno stato, di una città, lo divido per i chilometri quadrati e ottengo una media matematica. Lo ribadisco, vorrei che sia chiaro questo concetto. La densità di popolazione è il risultato di una media matematica. Facciamo un esempio. Allora, eravamo giunti proprio a questo punto con la spiegazione. Prendiamo pagina 127 del proprio libro. Ovviamente vi sarete già muniti di matita per prendere gli appunti. Se non lo avete fatto, stoppate il video e andate a prendere la matita oltre che il libro. Orbene, osserviamo la cartina tematica che abbiamo a pagina 127. L'argomento affrontato da questa cartina è la densità della popolazione e in base alla leggenda capiamo che la colorazione ci riporta il numero di abitanti per chilometro quadrato, cioè appunto la densità di quelle varie zone della regione toscana. Per cui possiamo osservare che ad esempio nella zona di Firenze, Prato, la densità supera i mille abitanti per chilometro quadrato, ok? che è tantissimo. Ma se vai nelle zone dell'entroterra vicino Siena, ad esempio, ci sono zone anche con meno di 25 abitanti per chilometro quadrato, quindi zone di aperta campagna. Di conseguenza, io vi potete riportare questo dato, la Toscana ha, se si fa, se si calcola il dato per l'intera Toscana, cioè il numero di abitanti della Toscana per chilometri quadrati della regione, otteniamo che la densità della Toscana è di 163 abitanti per chilometro quadrato. Immagino che lo stiate scrivendo 163 abitanti per chilometro quadrato, però come vedete ci sono zone dove ci sono abitate da più di mille abitanti per chilometro quadrato e ci sono zone con meno di 25 abitanti per chilometro quadrato. Questo per dirvi che quando nei prossimi due anni parleremo di densità di popolazione, dovete, per esempio, per i vari Stati europei, dovete sempre, ragazzi miei, tener presente che si tratta di una media matematica e che ci sono zone più popolose e zone molto meno popolose all'interno di una stessa regione o Stato. Così, per curiosità, a livello informativo, in Piemonte ci sono, in media, 175 abitanti su chilometro quadrato, ok? Quindi è una densità demografica più alta di quella della Toscana, ma anche lì è ovvio, Torino avrà molti più abitanti per chilometro quadrato rispetto alla zona dell'astigiano, alla zona, alle zone delle collinare, alla zona collinare dove c'è la tipica coltivazione della vite in Piemonte, ok? Benissimo. Adesso vediamo un ultimo importante indicatore, dato fondamentale per la demografia, ovvero il saldo migratorio. Dunque, ogni anno in uno Stato ci sono persone che arrivano, vanno a vivere in esso e persone che da esso vanno via per andare a vivere altrove. Questo detto in parole è molto semplici. Di conseguenza ci sono immigrati che sono coloro che arrivano in uno Stato per vivervi, immigrati ed emigrati che sono coloro che vanno via da uno Stato per andare a vivere altrove. Quindi, impariamo questa prima, questo primo distinguo, immigrati ed emigrati. Emigrati viene dal latino ex migro, quindi vuol dire vado via da, ex vuol dire da, quindi gli emigrati sono coloro che vanno via dal proprio paese. Invece immigrati viene da in, che vuol dire dentro, migro, cioè vado dentro, sono coloro che vanno a vivere dentro un paese, ok? La differenza fra numero di immigrati, cioè fra numero di persone che vengono a vivere in un paese e de emigrati, numero di persone che vanno via da quel paese, si chiama saldo migratorio. Il saldo risulta positivo quando il numero di persone che entrano di immigrati è superiore a quello delle persone che vanno via da quello Stato, quindi quando gli immigrati in uno Stato sono di più degli emigrati, cioè che vanno via. In questo caso si parla di saldo migratorio positivo, al contrario se il numero di coloro che vanno via da uno Stato è superiore al numero di coloro che arrivano in uno Stato, cioè se il numero di emigrati è maggiore del numero di immigrati avremo un saldo migratorio negativo, ok? Sommando, spero che questo sia chiaro, magari qualcuno dei miei alunni si chiederà perché in Italia ci sono, oltre agli immigrati, cioè a coloro che dall'estero arrivano in Italia, ci sono gli emigrati, gli italiani che vanno via dall'Italia? Tantissimi. Leggevo un articolo che faceva riferimento a dati dell'Ocse, a dati dell'Istat, insomma un articolo serio, in base al quale in Italia dopo la crisi economica del 2008 il numero di italiani ed italiane che emigrano, cioè che vanno fuori dall'Italia per recarsi all'estero in cerca di lavoro come motivazione principale, è sempre quella del lavoro, ha raggiunto cifre altissime che non si vedevano dai tempi del dopoguerra. Concretamente è difficile calcolare, non è così semplice calcolare gli spostamenti delle persone, quantificarli non è così semplice, capire materialmente quanti sono gli italiani che sono andati a vivere all'estero, però all'incirca si stima che siano 250 mila gli italiani e le italiane che nel 2016 sono andati a vivere fuori. Una delle mete principali è stata la Gran Bretagna, chissà ora con la Brexit come si potrà fare, diventa molto più complesso andare a vivere in Gran Bretagna, staremo a vedere. Il dramma è che di questi 250 mila italiani che vanno a vivere, che sono andati a vivere all'estero, tantissimi sono laureati, cioè sono persone che sono diplomati, più della metà sono diplomati e laureati, quindi sono persone che si sono formate in Italia, hanno fatto la scuola e l'università in Italia, il che ha implicato tutta una serie di spese per lo Stato, perché vi ricordate ragazzi, vi ho detto che in media fare studiare un ragazzo per un anno a scuola costa 6.600 euro all'anno. Fra stipendi, ambienti da tenere puliti, illuminazione eccetera, all'incirca la cifra viene di 6.600 euro all'anno a studente. Quando gli italiani italiani che si sono diplomati o addirittura laureati vanno a lavorare fuori e non rientrano, ci rendiamo conto che è stata anche una perdita economica, oltre che in primis umana per il nostro Stato. Ed è interessante che la maggior parte degli italiani che nel dopoguerra emigrava dall'Italia, molti per esempio andavano anche in Germania, negli Stati Uniti, ma anche in Germania a vivere, avevano un tipo di istruzione più basso, la maggior parte aveva la licenza media e talvolta neanche, spesso neanche quella, ok? Penso alle mie zie che sono andate a vivere negli Stati Uniti, a Detroit. Adesso invece un tipo di emigrazione diversa, si tratta, questo fenomeno è stato chiamato, è noto tristemente come cervelli in fuga, cioè ragazzi, giovani, donne e uomini molto formati, quindi con un certo grado di competenze che non riescono a trovare lavoro o circostanze lavorative che possano permettergli di mettere a frutto le loro competenze e preferiscono lasciare tutto e andare via dall'Italia. E leggevo anche che c'è stata un'associazione, non ricordo in questo momento come si chiama, che ha cercato di contattare molti degli italiani laureati e migrati all'estero e più della metà delle persone contattate ha dichiarato che non ha la minima intenzione di rientrare, di tornare in Italia. Bene, quindi quando parliamo del fenomeno migratorio per l'Italia non pensiamo solo alle persone che arrivano in cerca di una vita migliore o per scappare dalla guerra, ma pensiamo anche agli italiani che vanno via in cerca di una vita migliore, non per scappare dalla guerra, grazie a Dio, ma in cerca spesso di un lavoro che possa permettere a loro di utilizzare gli studi e le competenze che hanno acquisite. Dunque, potete appuntarvi questo dato che in Italia sono 250.000 gli italiani emigrati nel 2016 e un altrettanto, forse un po' di meno, sono perché anche là le statistiche non sono così attendibili e non sono calcoli facili da fare, quindi all'incirca la popolazione rimane in pareggio, ok? Rimane pari la popolazione, fra numero di emigrati e di immigrati, la popolazione italiana all'incirca rimane pari. Ora, se si somma il saldo migratorio, quindi ribadisco per saldo migratorio, il saldo migratorio è la differenza fra numero di immigrati e di emigrati di uno Stato in un anno, per esempio. Se si somma il saldo migratorio con il saldo naturale, cioè con la differenza fra nati e morti, si ottiene il saldo demografico. Cosa è il saldo demografico? Il saldo demografico è quel dato che ci dice se la popolazione di uno Stato in un anno è aumentata o è diminuita, ok? Nel caso in cui la popolazione rimanga pari, si parla di crescita zero. Andiamo adesso a pagina 128 e guardiamo la cartina tematica che c'è in basso e riguarda la densità di popolazione europea. Ora, se volete, la media generale dell'Europa, dunque l'Europa, ha una densità demografica di 69 abitanti per chilometro quadrato. Però, come possiamo ben vedere da questa cartina, chiaramente è proprio una media matematica, perché ci sono zone quasi disabitate, vediamo per esempio l'estremo nord dell'Europa e in questi conteggi si comprende anche la Russia europea, cioè quella parte dello Stato russo che arriva fino ai Urali, perché vi ricordo che la Russia è a cavallo, si estende a cavallo fra due continenti. Da questa parte dei Urali è la Russia europea da un punto di vista fisico geografico, dall'altra parte dei Urali è quella asiatica. Ora, ci sono zone, come potete vedere tutta la parte della Russia o le zone nordiche della regione nordica europea, quindi non so, la Norvegia, la Svezia, o anche zone all'interno della Francia, della Spagna, che sono assolutamente poco abitate, hanno una densità di popolazione davvero bassa, meno di 25 abitanti per chilometro quadrato. Ci sono invece zone che sono molto abitate, più di 200 abitanti per chilometro quadrato, ok? Facendo una media l'Europa ha 69 abitanti per chilometro quadrato ed è il secondo continente, stilando una sorta di classifica dei continenti per densità di popolazione, l'Europa si trova al secondo posto. Al primo posto c'è l'Asia, che ha 97 abitanti per chilometro quadrato, ok? Quindi al primo posto, come in una classifica, in una hate parade relativa alla densità di popolazione, c'è l'Asia, al secondo c'è l'Europa. Non vi ho detto ancora quanti sono gli abitanti, i cittadini d'Europa. Dunque, in Europa vivono 718 milioni di abitanti, siamo 718 milioni. E con questo dato siamo il quarto continente, perché al primo posto per l'ONU i continenti sono 5, anche se da un punto di vista geografico dovrebbero essere 6, perché si considera anche l'Antartide, il Polo Sud, ma sappiamo che non è abitato forché nelle basi di studio degli scienziati e dei climatologi. E da un punto di vista storico-culturale dovrebbero essere 7, distinguendo l'America del Nord da quella meridionale. Benissimo. Però tendenzialmente si contano 5 continenti. Allora, al primo posto c'è l'Asia, vi potete appuntare questi dati. In Asia ci sono più di 4 miliardi e mezzo di abitanti. Quindi Asia, 4 miliardi e mezzo di abitanti. Al secondo posto c'è l'Africa, con un miliardo e 200 milioni di abitanti. Al terzo posto c'è l'America, con meno di un miliardo di abitanti, 980 milioni circa. E poi al quarto c'è l'Europa con 718 milioni. L'Oceania non arriva neanche a 50 milioni di abitanti. Per Oceania si intende l'Australia con tutti gli arcipelaghi che la circondano. Quindi l'Europa non è il continente più popoloso. Siamo all'incirca un decimo della popolazione mondiale. Perché si calcola che ci sono 7 miliardi di abitanti, quindi siamo un decimo della popolazione mondiale. Vi renderete conto, dai dati che vi ho fatto scrivere, che più della metà della popolazione mondiale sono asiatici. Ok? Quindi se uno dovesse scegliere di rappresentare l'essere umano in genere, dovrebbe rappresentarlo come un uomo asiatico. Ok? Quindi cinese oppure indiano. Anche gli indiani sono tantissimi. Si parla sempre della Cina che è uno stato molto popoloso, ma anche l'India. In India sono più di un miliardo gli abitanti. È uno stato con una grande economia, molto sviluppata. Poi lo studieremo in terza. Dunque, in Asia 4 miliardi e mezzo di abitanti, in Africa 1 miliardo e 200 milioni circa, in America 980 milioni, al terzo posto l'Europa e infine l'Oceania. Bene, ora un'altra caratteristica del nostro continente per quanto riguarda la distribuzione della popolazione è che all'incirca il 70% della popolazione europea vive in città, non nei paesi, non nelle campagne. Ben il 70%. Cosa si intende per città? Uh, là la discussione è lunga su cosa si intende per città. Che ne so, negli Stati Uniti hanno dei criteri per stabilire se un aggregato urbano è città o meno, diversi da quelli europei. Comunque, tendenzialmente per città si intende un aggregato urbano, un centro, dove ci sono più di 20.000 abitanti. Quindi a pagina 129 dove dice la densità è maggiore nelle città, sopra città scrivete più di 20.000 abitanti. Quindi se ci sono più di 20.000 abitanti si parla non più di paese ma di città. Di conseguenza settimo è città, chivasso è città, ok? Mezzipò non è città. E nel territorio europeo il 70% della popolazione si concentra quindi in città. Come mai? Perché nelle città ci sono maggiori servizi e di conseguenza sono molte di più le possibilità lavorative. Ci sono più tipi di scuole. Nelle città trovi i licei, gli istituti tecnici, quindi non hai bisogno di, come dire, di spostarti con i mezzi per andare a scuola. E anche questo è uno dei fattori che rende la città attraente per la popolazione. E soprattutto perché offre più possibilità di lavoro e più servizi, anche servizi culturali, ad esempio cinema, teatri, stadi, eccetera. Andiamo adesso, ragazzi miei, all'ultimo paragrafo. L'ultimo paragrafo ha un titolo interessante, crescita zero. Dunque, se ricordate ieri vi ho detto che in una famiglia se ci sono due figli, ho fatto l'esempio con la famiglia singola. In una famiglia se ci sono due figli figli, si raggiungerà quota zero perché due adulti muoiono e rimangono due abitanti. Due meno due fa zero. Se in una famiglia ci sono tre figli, si raggiungerà più uno, si avrà un incremento di un'unità della popolazione. Meno due più tre fa più uno. Se in una famiglia c'è un solo figlio, la popolazione diminuirà perché meno due che muoiono più uno che ne resta fa meno uno. Ok? Quindi scende. Ora, si è notato che negli ultimi decenni, proprio nei paesi economicamente più forti, con l'economia più strutturata, più sviluppata, cioè nell'America settentrionale, nell'Australia, in Giappone. Il Giappone, ragazzi, è la seconda potenza mondiale, è stata a lungo fra la seconda e la terza potenza mondiale, non si scherza. Quindi Giappone, America settentrionale, Australia e anche Europa, a causa del calo delle nascite, la crescita della popolazione è zero. Perché il numero delle persone che nascono in un anno è uguale o addirittura inferiore di meno delle persone che muoiono in un anno. Come mai? Sono varie le cause. Una delle cause è che si è alzata l'età in cui le donne si sposano. Provate a fare un'indagine anche in famiglia rispetto a che età si è sposata vostra nonna, vostra madre, le vostre zie e se avete qualche amica, qualche cugina un po' più grande e chiedete che si è sposata di recente, vedete a che età è successo. Sta di fatto che la media dell'età in cui ci si sposa si è molto alzata si va dai 32 ai 35 anni. Parlo rispetto ad esempio alla mia famiglia, mia madre si è sposata a 20 anni appena fatti, sua madre, mia nonna materna si è sposata a 18 anni, io mi sono sposata a 27 anni, mia sorella ne ha 33 e si dovrebbe sposare, se Dio vuole, l'anno prossimo a 34, ok? Quindi anche rispetto alla mia famiglia di origine, no? Come vedete l'età nella quale ci si sposa si è più posticipata, di conseguenza diminuisce il numero dei figli. Perché diminuisce il numero dei figli? Uno, per un fattore biologico, perché dai 35 anni in poi la fertilità, il tasso di fertilità di una donna è di gran lunga inferiore rispetto a quando ne ha 20-25, cioè mano a mano che cresci, diciamo che nel corpo della donna ha come una sorta di orologio biologico, mediamente, poi ovviamente non è sempre così, tante donne hanno 2-3 figli a 40 anni, per carità, però sto dicendo che mediamente, questa è medicina, non è che lo dico io, superati i 35 anni il tasso di fertilità e quindi la possibilità di rimanere incinta diminuisce sensibilmente rispetto a una donna che ha 10 anni di meno, che ne ha 22-25, ok? Quindi prima di tutto c'è questo, questa spiegazione alla diminuzione delle nascite. Seconda, abbiamo raggiunto come donne, sicuramente almeno nell'Europa, perché in molte parti del mondo non è così, l'eguaglianza giuridica rispetto agli uomini, cioè possiamo, abbiamo realmente il diritto di lavorare, abbiamo il diritto di gestirci da sole il nostro patrimonio economico, abbiamo il diritto di prendere le decisioni insieme al padre dei nostri figli, le decisioni che riguardano i nostri figli insieme al papà, mentre prima, fino al 1975, fino a quando è stato entrato in vigore il nuovo diritto di famiglia, cioè le leggi che regolamentano i rapporti familiari, fino al 1975 le decisioni spettavano al capo famiglia, che era proprio una figura giuridica, cioè realmente il marito aveva un peso maggiore, un'importanza maggiore nelle decisioni rispetto alla moglie. Però, però, anche se c'è una certa eguaglianza giuridica fra uomini e donne, fattivamente, nella realtà dei fatti, non è proprio così. Nel senso che io ho sentito una quantità sterminata di storie di donne che, appena sono rimaste incinte, non hanno avuto rinnovato il contratto. A me stesso è successo. Quando ero incinta del mio primo figlio Giuseppe, allo scadere del contratto, non mi è stato rinnovato espressamente proprio perché ero incinta. O ci sono molte donne che, a un certo punto, non riescono a gestire contemporaneamente la cura per i figli e il lavoro perché non hanno abbastanza agevolazioni. E mandare un figlio al nido costa così tanto per cui, alla fine, ti può anche convenire rimanere a casa e almeno ti cresci tutto tuo figlio. Tutte queste situazioni fanno sì che le donne rinuncino ad avere più figli. Un altro motivo, un terzo, quindi il primo, il fatto che sposandosi più tardi diminuisce il tasso di fertilità delle donne. Il secondo è che non è così facile gestire contemporaneamente il lavoro e le cure familiari e, secondo proprio dati, ci sono dati che dicono come moltissime donne rinuncino al lavoro per, ovviamente, poi si trovino a un certo punto a dover scegliere fra la famiglia e il lavoro e, nel momento in cui, se il marito, il compagno lavora, ovviamente, poi alla fine scegli per la cosa più preziosa, per i figli. Terza cosa è anche questa, quest'altro elemento che viene indicato come causa della crescita zero nei paesi economicamente sviluppati, fenomeno che è presente soprattutto negli ultimi 30 anni, è questo, che conduciamo uno stile di vita rispetto a quello dei nostri nonni molto alto. Cioè, vi voglio dire, non ci facciamo mancare proprio niente, cresciamo i nostri figli rispetto a come sono stati cresciuti i nostri nonni come dei veri e propri principi. Di conseguenza, mantenere più figli con uno stile di vita assai alto, non è facile. Cosa voglio dire, ragazzi? Voglio dire che nel momento in cui, non so, a casa di mia madre erano tre figli, in origine erano quattro, però uno è morto da piccolo, quindi erano tre figli. Lavorava soltanto mio nonno, però, come dire, non era, non è, non hanno mai vissuto nella ricchezza, ma mai neanche nella povertà. C'erano molte spese, ci sono molte meno spese di ora, perché i bambini non si iscrivevano in palestra, non si iscrivevano a calcio, non avevano il cellulare, non avevano gli abbonamenti, si stava in cortile, mia madre stava in cortile con i suoi fratelli e i suoi cugini che abitavano al piano di sopra a giocare tutti insieme. Giocavano a calcio tutti insieme nel cortile. Tu non iscrivevi tuo figlio nella squadra di calcio o non iscrivevi tuo figlio ad equitazione o dove vuoi, ok? Quindi c'erano proprio meno spese nella società e far vivere, crescere uno o due figli con tutti questi, diciamo, come principi, dico io, lo puoi fare. Farne crescerne tre, quattro con questo stile di vita così alto è davvero difficile e ciò avviene indipendentemente dal reddito, perché noi genitori facciamo sacrifici enormi pur di non non fa mancare niente ai nostri figli, ok? Questo ormai, diciamo, è un dato culturale diventato. A questo fatto della crescita zero si accompagna l'allungamento della vita media, nel senso che in Italia la vita media di un italiano è intorno agli 80 anni. Se voi andate a 30 anni fa, 50 anni fa, la vita media era molto più bassa. Perché questo avviene? Perché è migliorata di gran lunga la sanità. Grazie proprio al benessere economico la gente si cura meglio, ci sono stati un sacco di sviluppi in ambito farmaceutico, di progressi, scusate, di progressi. Di conseguenza molte malattie si possono curare, ci si può convivere per tanti anni, mentre prima non era così. Risultato, abbiamo una popolazione sempre più vecchia, nel senso che ci sono sempre meno bambini e sempre più anziani. Questo argomento lo riprenderemo la prossima settimana, quando studieremo un grafico, ci fermeremo a studiare e a osservare un grafico che si chiama piramide dell'età. Adesso vi saluto ragazzi miei, vi ricordo appunto che per la prossima settimana i compiti li trovate scritti sul registro elettronico. Bene, ci vediamo presto, speriamo. Arrivederci ragazzi.